Io penso che la squadra ha giocato, noi al centrocampo in su abbiamo creato qualcosa, fare 11 gol in una partita non è poco, anche se 6 erano in fuorigioco, mentre dietro soffriamo. No, per me il centrocampo ha fatto bene sempre in molti tempi che secondi, abbiamo problemi dietro, nel senso che non riusciamo a prendere riferimenti e poi è facile per l'avversario arrivare. Vabbè, i tre a centrocampo io li ho provati già ultima partita, quindi mi hanno dato soddisfazione nel senso che riescono a giocare insieme anche se non hanno grande ritmo, però i tre registi se giocano insieme riescono a impostare e anche per questo siamo arrivati spesso al tiro. Poi su chi si deve contare bisogna vedere, io spero che questi ragazzi che sono giovani impareranno più presto di giocare insieme. Qualità ce l'hanno, poi bisogna metterli a disposizione della squadra. E lui è abituato a giocare a prima, di nuovo sono tutti i tre che sono abituati a giocare nel mezzo al registro. Poi se riescono a giocare insieme penso che ci è riuscito oggi, è normale che con Cullibali c'è più fase fisica, però a me sta bene che si cominci a costruire nel mezzo. Vabbè che abbiamo problemi dietro, si sa. Io non faccio mercato, è normale che se siamo ancora tanti è difficile mettere dentro qualcuno perché lavorare come abbiamo lavorato prima con 39, ora con 30 non è facile.